Buonasera, non lo sono più tu. Questa sera presentiamo questo piccolo laboratorio, che si chiama NECO POSITION, basato sulla cosa di POSITION e in questi due giorni abbiamo avuto modo di fare questo esperimento attorno alla musica dei testi degli squadroni. Sembra che si resti dal punto di vista uno dei contenuti, quelli che portano, i doni che all'epoca, negli anni 70 soprattutto, avevano in termini quasi di trasferire. L'epoca di POSITION ci raccontava che l'idea sfruttava delle manfiette e in quegli anni era quasi considerato inarazzante, sentire quei testi degli testi. Ora, questo è proprio il punto del testuale, la propria delle squadroni e noi vediamo anche un veracidiosi stile, tanto di ricerca che accompagneranno queste gestualità su amore. Ci ho detto, ricordo che l'improvvisatore montagno, colettivo, artistico, che produce i dischi e quant'altro, insomma, che troverete lì, ma non uscita ci ho detto che succede. Va bene, buonasera, grazie. 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 Grazie a tutti. Non è proprio quello, diciamo, che si avvicina molto. Sente intorno alla bossa, se lo dobbiamo, guarda. Non lo faccio così, quindi. Il problema, allora, è esattamente questo, ma non proprio. C'è proprio manca delle date, beh, come gli internati. Ciao, come ti, ma ragazza. Ciao. Ciao. Ciao, come ti, ma ragazza. 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 Questo è un canto tipico d'amore. something andal hadi cominciogli, il canto del D upper, una storia o препод di transincione della volontà. Dott'amore sintamatico, come, non si chiede di più. Tutta di bucà così. Guardi uno picavo. Anzio, il filo picavo. Manso, negra. Anzio, il filo picavo. Anzio, il filo picavo. Manifestiamoci nelle praniche amorose. Le donne, si trattando dalla bocchia del campus, se la mettono vicino alla gamba. Anzio, vicino alla luce. E vicino all'gello. E un piede nuovo. Un nuovo piede. Il nuovo comunicazione. Otto! Un piede, un piede, un piccocino. Lato due. Tre. Quattro giorni. 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 basso, mano, basso, mano, basso, mano, basso, mano, Jeff Hamas Emuda Hamas Emuda Oh, oh Hamas Emuda Hamas Emuda Atenri le uni Fallout musicisti bassi d'avanzo, da tutto lontane vado, volendo, mazzanera e la sposta di musica, vado, vado, vado mazzanera, 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 mazzanera mazzanera, 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 mazzanera la raccontava allo santo, lasciato da mio osse che faceva tutti, pruno, 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 pruno in scure, mazzanera, 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 mazzanera va, piepjusta, mazzanera, mazzanera, mazzanera Al passo! Grazie a tutti. 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 da lì a fare performance. Comunque, l'autoreatro è incredibile, c'è spettrale, assurda, di tanti paesi incredibili, ovviamente composti, composti, composti. Allora, siamo da parte e facciamo altre cose, grazie a investimenti, di fare performance. Adesso continuiamo con la seconda parte, il maestro Fazio Borde compra il testo successivo di qua. Grazie a tutti. 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 E forse troviate la mia vita di tutti i miei fatti di conoscenza, ne hai fatto volare la camicia con l'arrivo, ne hai fatto volare per conto e volare. Ma non vorrei che se tu ti svegliassi, ma tu sei veramente morto. Ma attiva la mia estrella mentre l' insightful diventi dionia. Anche se la mente morta. Ase o hábito woman, esse existe remarka non ti cuore che per me è vonelling. Grazie a tutti. 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 . 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